Sai quali sono i dischi da evitare per scegliere un intrattenimento per rendere il tuo matrimonio un sogno? Benvenuto in questo video dove ti spiego cosa facciamo di speciale noi per te. Ciao, sono Giovanni e sono il responsabile Senza Tempo Live, team di intrattenimento per soli matrimoni con sede a Cosenza. Resta con me e ti spiego come intendiamo noi la musica per il tuo matrimonio. A differenza di altri team, noi non siamo un gruppo monotematico, cioè non facciamo un solo genere per il tuo matrimonio, ma grazie al nostro team siamo specializzati in più stili e quindi ti garantiamo di coinvolgere tutti quanti gli ospiti presenti al tuo matrimonio. Non abbiamo una sola formazione all'interno del nostro team e questo ti permette di scegliere la formazione che ritieni più idonea per il tuo matrimonio. A differenza di altri, noi non ti diamo limiti d'orario, quindi ti diamo l'esclusiva per tutta la giornata del tuo evento. Non abbiamo limiti di postazione, quindi ti seguiremo passo passo per tutta la location. Sai quali sono i rischi che si incorrono se non ingaggi un gruppo legalmente costituito? Il tuo evento può rovinarsi per un controllo inatteso e se avrai modo di approfondire insieme a noi, capirai come e perché è importante scegliere un team ok e come questo può regalarti veramente una giornata come l'hai sempre sognata. Che cosa facciamo noi di Senza Tempo Live per il tuo matrimonio rispetto a tutti gli altri gruppi musicali? Non siamo un gruppo ma siamo un team di persone e facciamo musica dal vivo e animazione elegante ma divertente per coinvolgere tutti gli ospiti che sono presenti al tuo matrimonio in modo distinto e garbato. Se decidi di approfondire insieme a noi, ti spieghiamo quali sono i rischi da evitare per organizzare al meglio il tuo matrimonio. Adesso quello che vuoi fare è semplice, se vuoi approfondire queste cose hai l'opportunità finalmente di ricevere gratuitamente una guida pratica veloce dal valore di 97 euro dove ti dico i problemi che possono esserci al tuo matrimonio e quali possono essere le possibili soluzioni. Inoltre se scarichi la guida dal valore di 97 euro e tu la puoi ricevere gratuitamente sulla tua posta elettronica, ti regalo un buono sconto dal valore del 40% se saremo noi a gestire l'intrattenimento al tuo matrimonio. A disposizione hai anche una consulenza gratuita in cui ascoltiamo le tue esigenze, le tue paure, le tue idee e studiamo insieme la giusta soluzione per te. Riassumendo cosa devi fare, clicca sul link, ti scarichi la guida, ti arriva direttamente sulla tua posta elettronica e ti assegno subito un buono sconto del 40%. Dopo aver scaricato la guida dove all'interno troverai i problemi e le soluzioni per il tuo matrimonio puoi anche prenotare una consulenza gratuita insieme a noi. Ciao è stato un piacere aiutarti e ti aspetto in consulenza per darti gli elementi giusti in modo da scegliere in autonomia il giusto team per il tuo matrimonio. Ciao!